Quando parliamo di libri, ci sono due mondi che sembrano completamente separati. Il mondo dei libri italiani è quello dei libri fantasy o di fantascienza. In effetti, se ci pensiamo bene, quasi tutti i grandi libri fantastici sono opera di autori e autrici del mondo anglofono. La saga di Harry Potter, per esempio, il mago più amato dai ragazzini di tutto il mondo, è stata creata da un'autrice britannica. Il trono di spade, con i suoi complotti, scontri familiari e combattimenti feroci, è nato dalla fantasia di un signore del New Jersey. E infine, la saga fantasy più famosa di sempre, il Signore degli Anelli, con la Terra di Mezzo, gli Hobbit, gli Elfi, i Nani e gli Anelli, è uscita dalla penna di un uomo nato in Sudafrica, quando quella zona faceva ancora parte dell'impero britannico. Per quanto riguarda la fantascienza, non ne parliamo neanche. Praticamente tutte le grandi storie di avventure nello spazio, incontro con civiltà aliene, astronavi, guerre spaziali, beh, sono nate negli Stati Uniti. In Italia, invece, riuscite a immaginare una storia tipo Star Wars, scritta in italiano, o una saga piena di draghi, spade e creature fantastiche, scritta in italiano? Se la risposta è no, non vi preoccupate, è normale. In effetti, i libri di questo tipo, in italiano, non sono tanti e non sono molto famosi. È un po' paradossale, visto che i lettori e le lettrici adorano questo tipo di libri. Una nicchia di letteratura fantastica italiana, però, esiste e offre anche libri di buona qualità, che possono piacere anche a persone che normalmente leggono altre cose. Questo è Salvatore Racconta, un podcast settimanale dedicato a persone che studiano o parlano italiano come seconda lingua. Oggi è il turno della serie Cultura e quindi vi parlo di cinque libri di letteratura fantasy o fantascienza italiana che quasi sicuramente ancora non conoscete. Se ci sono parole nuove o difficili, vi ricordo che potete ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario. Basta iscriversi alla newsletter. Il link è in descrizione. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com slash Salvatore Racconta Ma per il momento, buon ascolto! Cominciamo da una saga fantasy molto popolare e tradotta in varie lingue straniere. Si intitola Cronache del mondo emerso e l'autrice si chiama Licia Troisi. Si tratta di una trilogia, cioè una saga composta da tre libri e la storia è abbastanza classica. La protagonista è una mezzo-elfa di nome Nihal che all'inizio della storia ha circa 13 anni. È un'adolescente un po' diversa dai suoi coetanei, ha un aspetto fisico diverso ma anche altre predisposizioni. I mezzi elfi usano la magia a livello avanzato. Lei, invece, solo ha un livello base. In compenso, è molto abile a combattere e usare le armi. Nel suo mondo, la Terra del Vento, arriva un giorno all'improvviso un esercito invasore guidato da un tiranno che vuole conquistare tutto. Gli abitanti locali provano a resistere ma non ci riescono, sono troppo deboli e Nihal diventa una guerriera per iniziare una lotta di resistenza. Insomma, come vedete, la storia è abbastanza classica. C'è un eroe, in questo caso un'eroina, che all'inizio sembra diversa da tutti gli altri, un po' esclusa ma poi è l'unica con la capacità di salvare la sua gente da un grande pericolo. La trilogia di Licia Troisi ha avuto grande successo in Italia perché è scritta bene, in modo avvincente, con personaggi credibili e tante belle invenzioni. Ma soprattutto è famosa per un'altra cosa. Il mondo del fantasy, di solito, è pieno di eroi maschi, mentre Nihal è una ragazza e non solo. È una ragazza che supera gli stereotipi femminili e diventa una fortissima guerriera. È un libro scritto soprattutto per adolescenti ma può essere piacevole anche per un pubblico adulto. All'inizio può sembrare difficile perché ci sono tante parole un po' specifiche ma se superate questo primo ostacolo il resto poi è molto più semplice. Andiamo da una saga fantasy pura a una che incrocia elementi fantastici e storici. Parliamo dell'epopea di Nikolas Eimerich personaggio inventato dallo scrittore bolognese Valerio Evangelisti. Nikolas Eimerich è un personaggio di fantasia ma ispirato a un uomo realmente vissuto un religioso spagnolo del quattordicesimo secolo. Sia nella realtà che nei romanzi Eimerich è un inquisitore cioè una specie di giudice della chiesa cattolica che cerca gli eretici. Nelle storie inventate nei libri è un uomo molto intelligente molto colto molto religioso ma anche molto crudele e violento. Il suo obiettivo è risolvere misteri come una specie di Sherlock Holmes medievale solo che Sherlock Holmes è un personaggio buono mentre Eimerich è come dirlo un pazzo fanatico e un po' sadico. I misteri di cui si occupa sono molto complessi a volte riguardano viaggi nel tempo per esempio Eimerich vede il futuro che per lui è il ventesimo secolo ma a volte anche il trentesimo secolo un futuro molto strano e pericoloso Valerio Evangelisti ha scritto oltre dieci romanzi con protagonista il suo inquisitore pazzo sono usciti tutti tra il 94 e il 2018 e sono veramente molto popolari forse il segreto del loro successo è quello di unire il romanzo storico e l'Europa medievale con elementi di fantascienza e futurologia il terzo libro di cui vi parlo è più ambizioso è un libro fantastico nel senso che il mondo dei protagonisti non è davvero reale ma allo stesso tempo non è un romanzo di draghi o alieni l'autore è Andrea Viscusi e il titolo è Sinfonia per Teremin e Merli prima di entrare nella storia spieghiamo il titolo il Teremin forse lo conoscete è uno strano strumento musicale che si suona senza toccarlo è necessario muovere le mani vicino alla sua antenna per causare delle vibrazioni e produrre un suono vi consiglio di provarlo è molto divertente il Merlo invece è un uccello tipicamente con le piume nere è un canto molto piacevole Sinfonia per Teremin e Merli è ambientato nell'Italia degli anni sessanta un'Italia dove però non c'è stata la resistenza e il fascismo ha vinto ma non solo negli anni trenta all'inizio della dittatura un matematico tedesco ha dimostrato una cosa apparentemente indimostrabile i numeri non esistono e così non esiste nemmeno la matematica il protagonista del romanzo è un ragazzo toscano Andrea che vive con il nonno ex ingegnere e ora contadino che di nascosto gli insegna a contare e vuole scoprire qualcosa di più cosa è successo con la matematica e cosa è successo con sua nonna Daphne che studiava al conservatorio e poi è dovuta scappare insomma in questo libro vi scusi fa fantascienza in modo molto delicato non ci sono creature di fantasia o astronavi c'è una realtà molto simile alla nostra ma non uguale dove alcuni piccoli dettagli sono diversi e influiscono su tutta la situazione generale quindi forse è il libro per voi se vi interessa l'idea ma non amate la fantascienza classica e i suoi temi il quarto libro di cui vi voglio parlare si intitola non muoiono le api e lo ha scritto una giovane autrice molto promettente che si chiama Natalia Guerrieri i protagonisti di questo romanzo sono persone normali che vivono in un mondo molto simile al nostro con molta tecnologia e una piattaforma internet chiamata nuvola che controlla praticamente tutto c'è una particolarità queste persone che vivono felici non si interessano minimamente alla storia e al passato guardano solo il presente e per questo non sono preparati quando la situazione diventa più difficile c'è un attacco hacker alla piattaforma nuvola il governo dice che sono i nemici che sono pronti ad attaccare ma chi sono i nemici non si sa però bisogna difendersi così il governo ordina a tutte le persone adulte di arruolarsi cioè di diventare soldati Anna e suo marito contro voglia entrano nell'esercito hanno una figlia piccola Andrea che va a vivere con la nonna il mondo diventa poco chiaro perché il governo vuole soldati chi è il nemico come si combatte che cosa sta succedendo nessuno capisce bene la situazione perché nessuno conosce la storia Andrea intanto a casa della nonna cresce conosce persone nuove e da adulta diventa una specie di partigiana inizia la resistenza contro il governo che vuole tutti i soldati e contro un mondo dove le cose non si capiscono ma si fanno e basta in un certo senso quindi non muoiono le api è un romanzo distopico cioè che mostra un futuro terribile però alla fine c'è questa speranza la speranza della resistenza e della consapevolezza non è male l'ultimo libro di questa serie è un po' particolare non è un libro di fantascienza vero e proprio il titolo è As e l'autore si chiama Michele Cocchi il protagonista è un adolescente Tommaso che da un anno e mezzo non esce di casa non va a scuola non incontra gli amici non fa niente sta sempre a casa e gioca a un videogioco particolarmente coinvolgente che si chiama As il gioco è composto da varie missioni e ogni missione riguarda un momento storico del ventesimo secolo Tommaso e le altre persone del suo gruppo devono affrontare queste missioni per andare avanti e ogni volta devono prendere delle decisioni anche di tipo morale stare dalla parte dei nazisti o da quella dei partigiani favorire i combattenti clandestini in Colombia o l'esercito regolare così grazie al videogioco il protagonista Tommaso vive sulla sua pelle la storia del mondo nel ventesimo secolo in un certo senso viaggia nel tempo e nello spazio la realtà virtuale del gioco lo trasporta in altri mondi come con la fantascienza insomma ho scelto cinque libri molto diversi tra loro quasi tutti abbastanza semplici da leggere se volete provare per convincersi di due cose una è che anche in italiano è possibile scrivere romanzi fantasy e di fantascienza l'altra è che è possibile farlo in modo alternativo e originale anche senza astronavi orchi spade laser e draghi la letteratura fantastica può essere una forma di svago e intrattenimento oppure può essere un modo per farsi delle domande come sarebbe il mondo se fosse anche solo leggermente diverso da come è davvero bene per oggi è tutto se siete abbonati a patreon ci sentiamo lì lunedì per il caffè con le notizie e mercoledì per il podcast di attualità altrimenti ci ritroviamo qui sabato prossimo per un episodio della serie luoghi alla prossima hai ascoltato salvatore raccolta un podcast in italiano semplice ma non banale se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast per altri materiali di lessico e grammatica seguimi su instagram e visita il sito salvatore racconta punto com trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio alla prossima